L'Isola dei Famosi apre le porte a nuovi scenari tra polemiche e flirt. Dal presunto tradimento della moglie di Fogli alla relazione tra Suerge e Rodriguez Nuovi scenari all'Isola dei Famosi, scenari che spaziano un po' per tutti i naufraghi ma in modo particolare l'attenzione viene puntata su Riccardo Fogli ed il presunto tradimento della moglie Ma Fogli questa settimana dovrà fare i conti con l'arrivo proprio di Karin Trentini che approderà in Honduras per chiarire la situazione incresciosa che si sarebbe venuta a creare Questa sesta puntata dell'Isola 2019 avrà molti colpi di scena anche a margine della settimana appena trascorsa che ha visto protagoniste Suel Soerge, divenuta leader, e Geramaias Rodriguez S. Soleil ha da subito creato scompiglio tra i naufraghi ma incurante dei pareri dei compagni e ha pensato a vivere una luna di miele con il bel fratello di Cecilia e Belen S. Isola 2019, Suel Soerge e Geramaias Rodriguez sotto i riflettori.Una notte passionale sull'Isola Bonita quella tra Suel Soerge e Geramaias Rodriguez che però ha fatto scattare polemiche e invidie a causa di voci messe un po' in giro da Ariadina Romero, che in maniera inconsapevole avrebbe dato spazio a malumori inerenti i due ragazzi Una possibile attrazione tra Geramaias e Dariadina potrebbe essere la causa, ma in ogni caso, la modella cubana non avrebbe che l'imbarazzo della scelta sull'Isola, scelta che pare abbia incontrato l'ex bomber Jezal Isola dei Famosi. Le nomination.Anticipazioni della sesta puntata dell'Isola dei Famosi riguarderebbero le nomination che domani vedranno sfidarsi Giorgia Venturini, Marco Maddaloni e Luca Vismara che stando alla lavagna vincente di Stanley Bet I testando alla lite con Soel, lo si vedrebbe all'ultimo posto con Sara Altobello a quota 20,00 Possibile eliminazione quindi per Vismara, ma non solo. Ad aspettarci anche una gara tra uomini e donne per il nuovo leader e quindi per l'immunità per le prossime nomination Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like